Eccoci qua di nuovo a isola, questa volta c'è la Yuki Day, presentazione dei cani della Yuki Siamo andando a trovare a salvo la plaga, già è da, si sta trovando le cani La luce è la luce, la luce è la luce, la luce è la luce, la luce è la luce Un saluto Che canna stai provando? Yuki Psyco Che grammatura è? 4,50 Ma che... Che mente va storto Che cosa come grammatura, che grammatura è? 2,50 E' bello Annellata Long Rider Allora questa è la più facile Questa è questa linea, isolata non delude mai Questa è la più facile 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 Gira, gira così si vede la macchina Gira un po' Ok Questa è la più facile Questa è la più facile Com'è? Questa è la più facile 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 Grazie a tutti. qual'è questa? Neox Kenta 250 come? come? questa io lancio con questa lancio è più morbida di quella ragazzi questa è più morbida la stiamo montando a dire che è una carne economica vediamo come reagisce qua siamo in compagnia di Gianluca e Gianvilla è il nostro amico aspetta me l'hai fatto il filmato sì te l'ho fatta il filmato adesso per me l'hai da Antunio ci vorresti come si chiama Antonio Rubino il mitico Antonio Rubino Idun ne fa scappare ma ancora orata la l'assicuro io andiamo a come questa cannuzza scusa non ci provare tutti i cani 700 euro non ci proviamo pure chi da economico infatti lui c'è una scappotta c'è una 2 scoglie che mi esce una scappotta stanno montando mettono il piano ma per ora Antone ne sono uscite ci ha provato una volta di giorno Mondello vedo che ti chiamo a Mondello eh tu hai di Mondello qui un chilo e cinquante un chilo e novanta un chilo e cento cagli ma il mare la ferma Antone ma guarda c'è una mangiata solo una mangiata solo e che è il saporetto la mia piccirilla con il cappellino della Yuki il saporetto tu puoi dire perchè non c'è un video ma cimbo mia mamma come vanno le canne? c'è una che mi piace graziosa quanto costa? non lo so ma sulle 600 euro quant'anno ti ha regalo per il compilato? no 600 euro no di più del passamante eccola qua in prova com'è? come ti fai? non c'è non c'è leggera ma pure pesante ma non c'è ma anche la uaettina pure bello sensibile ma direi è una fascia non c'è molto malaposta ma non c'è non c'è però fra tutti i sedenti non dirai te comunque in una normale no non c'è non c'è ah tutte così sono e usano in spagnolo queste cose vai allora sembra morbida non c'è non c'è non c'è questo quadrato si si yuki day terminato qua siamo con l'amico Antonio Rubino e vedo che cosa è? non c'è un buon ciao ragazzi una buona giornata a tutti con cuore come fa Gitta come si chiama? fa imparato con cuore ciao ragazzi ciao ciao ciao